Nei giorni scorsi i vigili del fuoco sono intervenuti con l'autopompa lagunare a recuperare il relitto fantasma sullo specchio d'acqua di fronte al ponte dei Cavanis, il relitto di un barchino di un circa 3 metri che costituiva un grosso problema alla navigazione, ad effetto iceberg, con emersa solo la proa per circa mezzo metro scarso. I vigili del fuoco lo avevano accompagnato fino allo scivolo per barche a Borgo San Giovanni di fronte al cimitero, non riuscendo a essarlo probabilmente a causa del livello dell'acqua troppo basso. Il barchino era stato comunque ancorato in sicurezza in attesa che ci fossero le condizioni adatte per poterlo mettere in sicurezza in modo definitivo. Purtroppo le condizioni meteo ieri sono cambiate in modo repentino trasformando la calma laguna in un agitato specchio d'acqua con forti onde a frangersi sulle murate, onde che oltre alle murate hanno flagellato il barchino togliendoli l'ormeggio e portandolo al centro del canale navigabile, costituendo un serio pericolo ancora maggiore per la navigazione. Abbiamo quindi avvisato immediatamente il 115 ma le condizioni meteomarine presenti ieri non hanno certamente permesso il recupero né del barchino né di una grossa abriccola che ieri vagava sullo stesso specchio d'acqua portata dalle onde, dal vento e dalla corrente. Certamente ieri il pericolo era più sulla carta che sul reale visto che le condizioni proibitive per la navigazione non avrebbero invogliato nessuno a girare in barca ma non appena le acque si calmano il pericolo diventa reale. Abbiamo avvisato con una diretta di fare attenzione, lo ribadiamo adesso, del barchino si vede solo una piccola parte della prua, si rischia di non vederla e di colpire la barca in pieno. I vigili del fuoco interverranno appena possibile per il recupero del relitto. Supponiamo che, viste le pessime condizioni meteo, di briccole sparse in acqua ce ne sia più di qualcuna, per cui vi raccomandiamo la massima attenzione. Se ne avvistate, avvisate i vigili del fuoco per il recupero. Aragoste, astici, gran seole, gran chiporri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM, da oltre 50 anni, all'isola Saloni a Chioggia.